e col destro che gollo col 8 che gollo col destro che gollo il giusto in campo quarta giornata torneo Vittorini si affrontano Bellasio Team contro Boca Juniors casacca gialla Bellasio Team di Simone Salvarezza e a nostra destra in maglia blu Boca Juniors saluto il pubblico anche nel studio e ora il saluto tra le due squadre Boca Juniors saluta l'arbitro dell'incontro debutto di Giovanni Maglietta come arbitro capitale grazie torneo SK il primo tempo tra Boca Juniors contro Bellasio Team quarta giornata del torneo Elio Vittorini stanno ancora sullo 0-0 seguiremo tutta la prima prossima ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione 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 Grazie per la visione